Io rappresento il museo statale russo Hermitage, mi occupo del restauro delle vetrate antiche, in questo caso su questo tavolo vediamo una vetrata fatta nella tecnica Tiffany, è una tecnica classica fatta di vetro opalescente, in questo caso sarebbe una lampada da parete immagino. Questa è la foto di come dovrebbe apparire la versione finale, in mezzo vedete la lampadina e attorno ci sarebbe il mosaico di vetro. Qua invece la signora si occupa del restauro, fa vedere come viene restaurata la vetrata di una chiesa a Augsburg in Germania, la madonna, l'annunciazione e qui vediamo come il mosaico, la vetrata viene smontata e rimontata, la sagoma viene riportata sulla carta, dopo si prende un profilo di piombo, fatto così, si taglia e si inserisce. Mettendo insieme diverse lastre per creare un'immagine unica, il profilo è flessibile e quindi si piega in base alle necessità effettive. Alla fine viene saldato nei punti, in alcuni punti, non tutti perché la tecnica antica non prevedeva una saldatura massiccia. E quindi questa è una specie di vetrata classica, fatta in questo modo. Qui vediamo sopra la pittura fatta, i pittuati sulla lastra, vengono fatti diversi strati di pittura. Qui vediamo sopra la pittura.